Se perdo una parte del corpo su Happy Wheels il video finisce Ok quindi ragazzi oggi stiamo giocando ad Happy Wheels per tentare la sfida Se perdo una parte del corpo il video finisce Vediamo un po' tra i bros level, vorrei cercare qualcuno tra questi Tra l'altro devo impostare il volume qui Vediamo, allora Come sapete ragazzi io non gioco mai da pc su Happy Wheels Quindi io non so come finirà questa cosa Vabbè io vorrei prendere qualche livello con da destellina Avevo visto questo che è WWE 8 Remake Quindi immagino che sia un livello già fatto varie volte Però io non ho idea di come funzionino Quindi proviamo Play Now E quindi cosa dovrei fare qui Ok sono troppo forte ragazzi Lo so, calmi ragazzi So di essere troppo forte Non so solamente cosa è successo Comunque andiamo avanti Cerchiamo un altro livello con tante stelle Ah c'è questo qui proprio ragazzi una bomba Very Hard Oves Ok Play Now Vediamo ragazzi Non sta iniziando bene, non sta iniziando bene Calmi, allora Ok Io fino a prova contraria ho tutte le parti del corpo con me Quindi posso tranquillamente restartare la sfida Come se nulla fosse successa Ok, riproviamo Allora io non devo fare questo Ok Tranquilli ragazzi C'ho tutto, c'ho tutto Bella così, cosa suono? Non riesco a capire Forse Forse questa sfida non è andata proprio bene Ciao a tutti Ciao a tutti